La luce declinava. Lunghe ombre strane si stagliavano sul pavimento dello studio. Con quell'idea che gli si ingigantiva in testa, cominciò a sentirsi correre brividi per la schiena e la paura non avrebbe tardato a coglierlo se l'arrivo di un suo amico non avesse creato un diversivo a tutte quelle diaboliche visioni. Uscirono insieme e siccome nessuno al mondo era più influenzabile di lui e l'amico era allegro, le sue lugubri fantasticherie cedettero ben presto il posto a una miriade di giocosi pensieri. Dimenticò completamente quello che era successo, oppure, se lo ricordava, ne rideva fra sé. L'indomani si rimise all'opera. Lavorò accanitamente per tre o quattro ore. Benché Giacinta non fosse presente, i suoi lineamenti gli erano così profondamente scolpiti nel cuore che per terminare il ritratto non aveva bisogno di lei. Era quasi finito, mancavano solo pochi ritocchi e la firma, quando un peluzzo che danzava con i suoi fratelli atomi in un bel raggio di sole giallo, per un inesplicabile ghiribizzo abbandonò improvvisamente la sua luminosa sala da ballo, si diresse oscillando verso la tela di Onofrius e andò a finire su una lumeggiatura appena terminata. Onofrius girò il pennello e si servì del manico per toglierlo il più delicatamente possibile, ma non riuscì a farlo senza portare via un po' di colore e scoprire il fondo della tela. Rifece la tinta per riparare il danno, ma la tinta era troppo scura e spiccava sul resto. Riuscì a ricreare l'armonia rimaneggiando tutto il pezzo, ma in tal modo il profilo andò perduto. Il naso, che era quasi alla rossellana, divenne aquilino, cambiando completamente i caratteri del viso. Non era più giacinta, bensì una delle sue amiche con cui lei aveva rotto i ponti perché Onofrius la trovava carina. Quella strana metamorfosi fece rispuntare l'idea del diavolo, ma guardando più attentamente, Onofrius vide che si trattava solo di uno scherzo della sua immaginazione e, poiché ormai era tardi, si alzò e uscì per andare a raggiungere la sua amichetta dal signor tal dei tali. Il cavallo correva come il vento e, ben presto, Onofrius vide spuntare sulla collina la casa del signor tal dei tali, bianca tra gli ipocastani. Dato che la strada maestra faceva una deviazione, la lasciò per una scorciatoia, un sentiero incassato che conosceva molto bene perché da bambino vi andava a cogliere le more e a cacciare maggiolini. Era circa a metà quando si trovò dietro a un carro di fieno che le curve del sentiero gli avevano nascosto fino a quel momento. Il sentiero era così stretto e il carro così largo che era impossibile superarlo. Rimise il cavallo al passo sperando che la via, allargandosi, gli permettesse di farlo poco dopo. Speranza delusa, era come un muro che indietreggiasse impercettibilmente. Vole tornare sui suoi passi ma alle spalle era bloccato da un altro carro. Per un attimo pensò di scalare le pareti del vallone ma erano a picco e coronate da una siepe rigogliosa. Dovete quindi rassegnarsi. Il tempo correva, i minuti gli sembravano eterni. Era al colmo del furore con le arterie palpitanti e la fronte imperlata di sudore. L'orologio del vicino villaggio batte le sei con la sua voce fessa. Aveva appena finito che toccò a quello del castello ma con una tonalità diversa. Ce ne fu poi un altro e un altro ancora, uno alla volta, tutti in coro si udirono tutti gli orologi dei soborghi. Era un coro di campane, un concerto di timbri flautati, rimbambanti, striduli, schiamazzanti, un carion da farti scoppiare la testa. Le dè di Onofrius si confusero, lo colsero le vertigini. I campanili si inclinavano sul sentiero incassato per guardarlo passare. Lo additavano, gli facevano sberleffi e schernendolo gli tendevano i quadranti con le lancette perpendicolari. Le campane gli fecevano linguacce smorfie, continuando a battere quei sei maledetti colpi. Il tutto durò per un pezzo. Quel giorno le sei suonarono fino alle sette. Alla fine il carro sboccò nella pianura e Onufrius conficcò gli speroni nel ventre del cavallo. Calava la sera e sembrava che il cavallo capisse come per lui fosse importante arrivare. Gli zoccoli toccavano appena terra e senza lo sprezzar di scintille di qualche sasso urtato si sarebbe quasi detto che il cavallo volasse. Ben presto una bianca schiuma avvolse come di un'argente agua al drappa il suo petto di evano. Quando Onufrius arrivò erano passate le sette e Giacinta se n'era andata. Il signor tra dei tali lo accolse con grandi convenevoli, si mise a conversare con lui di letteratura e finì per proporgli una partita a dama. Onufrius non poteva far altro che accettare, benché ogni tipo di gioco e quello in particolare lo annoiasse mortalmente. Fu portata la scacchiera. Il signor tra dei tali prese le pedine nere, Onufrius quelle bianche e la partita ebbe inizio. I giocatori più o meno si equivalevano e ci volle un certo tempo prima che la bilancia pendesse da una parte o dall'altra. All'improvviso si inclinò a favore del vecchio gentiluomo. Le sue pedine avanzavano con incredibile velocità senza che gli sforzi di Onufrius riuscissero a ostacolarle. Con quell'idea del diavolo sempre in testa la cosa non gli parve naturale. Moltiplicò l'attenzione e finì per scoprire, accanto al dito con cui muoveva le pedine, un altro dito, magro, nodoso, che ne terminava con un artiglio. In un primo momento l'aveva scambiato per l'ombra del suo, che spingeva le sue pedine sulla linea bianca, mentre quelle dell'avversario sfilavano in processione sulla linea nera. Impallidì e i capelli gli si drizzarono in testa, tuttavia rimise a posto le pedine e seguitò a giocare. Per convincersi che si trattava solo di un'ombra cambiò posto alla candela. L'ombra si spostò dall'altra parte proiettandosi in senso inverso, ma il dito con l'artiglio restò saldo al suo posto, spostando le pedine di Onufrius e ricorrendo ad ogni mezzo per farlo perdere. Tra l'altro non c'erano dubbi. Al dito brillava un grosso rubino. Onufrius non aveva anelli. «Per Dio, questo è troppo!» esclamò dando un gran pugno sulla scacchiera e alzandosi bruscamente. «Vecchio scellerato! Vecchio briccone!» Il signor tal dei tali che non lo conosceva fin da bambino e attribuiva quello scatto al dispetto d'aver perduto, si mise a ridere fragorosamente, proponendogli ironiche consolazioni. Combattuto, fracollera e terrore, Onufrius prese il cappello e uscì. La notte era così buia che dovette mettergli il cavallo al passo. Qua e là qualche rara stella faceva copolino dalla sua mantiglia di nubi. Gli alberi della strada avevano l'aria di grandi spettri con le braccia tese e ogni tanto un fuoco fatuo attraversava la via, mentre il vento sogghignava stranamente tra i rami. Il tempo passava, ma Onufrius non arrivava mai, anche se dallo scalpitare degli zoccoli del cavallo sul secciato era evidente che non era uscito di strada. Una raffica squarciò la nebbia e la luna ricomparve, ma invece di essere rotonda era ovale. Osservandola con più attenzione, Onufrius vide che aveva un ciuffotto di tafta nero e che si era messa della farina sulle guance. I suoi lineamenti si delinearono più chiaramente ed egli riconobbe senza ombra di dubbio il lungo viso livido del suo intimo amico Jean Gaspard de Bourreau, il gran pagliaccio dei Funambul che lo guardava con un'indefinibile espressione tra malizia e bonaria. Anche il cielo strizzava gli occhi blu dalle ciglia dorate come se facesse un cenno di connivenza. Al vivido chiarore delle stelle potentra vedere quattro personaggi dalla faccia sospetta vestiti metà di rosso e metà di nero che trasportavano qualcosa di biancastro tenendola ai quattro angoli come si cambia posto a un tappeto. Gli passarono rapidamente accanto e gettarono ciò che stavano trasportando sotto i piedi del cavallo. Nonostante lo spavento Onufrius vide subito che si trattava della via già percorsa e che il diavolo gli rimetteva davanti per creargli delle difficoltà. Dette di sprone ma il cavallo scalciò e rifiutò di procedere se non al passo. Intanto i quattro demoni continuavano i loro maneggi. Onufrius vide che uno di essi aveva un rubino come quello del dito che l'aveva talmente spaventato muovendosi sulla scarchiera. Non c'erano più dubbi sull'identità del personaggio. Il suo terrore era tanto grande che non sentiva, non vedeva, non capiva più niente. I denti gli battevano come se avesse la febbre mentre un riso convulso gli torceva la bocca. A un certo punto tentò di pregare e di farsi il segno della croce ma non ci riuscì. La notte trascorse così. Infine si profilò all'orizzonte una striscia azzurrognola. Il cavallo fiutò rumorosamente con le froge l'aria balsamica del mattino. Il gallo della fattoria vicina fece sentire la sua voce stridula e roca. I fantasmi scomparvero. Il cavallo cominciò da solo a galoppare e allo spuntar del giorno Nufrius si trovò davanti alla porta del suo studio. Stremato dalla stanchezza si buttò su un divano e non tardò ad addormentarsi di un sonno agitato, oppresso dagli incubi, fece una quantità di sogni incoerenti, mostruosi, che contribuirono non poco a turbare la sua ragione già scorsa. Eccone uno che l'aveva molto colpito e che da allora mi ha raccontato diverse volte. Ero in una camera, che non era la mia, né quella di un amico, una camera in cui non ero mai stato e che tuttavia conoscevo perfettamente. Le imposte erano chiuse, le tende tirate. Sul comodino un palido lume proiettava un fievole bagliore. Camminavano tutti in punta di piedi, il dito sulla bocca. Il caminetto era in gombro di flaconcini e di tazze. Io ero a letto come se fossi malato, eppure non ero mai stato meglio. Le persone che attraversavano la stanza avevano un'aria triste e indaffarata che pareva bizzarra. Giacinta stava china al mio capezzale per sentire se respirassi bene e mi teneva la sua piccola mano sulla fronte. Di tanto in tanto, dalle sue ciglia, mi cadeva sulle guance una lacrima che lei asciugava delicatamente con un bacio. Le sue lacrime mi straziavano il cuore e avrei tanto voluto consolarla, ma mi era impossibile fare il minimo movimento o articolare una sola sillaba. La mia lingua era come inchiodata al palato e il corpo pietrificato. E un tron signore vestito di nero mi tastò il polso, scosse la testa con aria desolata e disse ad alta voce, è finita. Allora Giacinta si mise a singhiozzare, a torcersi le mani, a mostrare in mille modi un tremendo dolore e altrettanto fecero tutti coloro che erano nella stanza. Fu un concerto di lacrime e sospiri da intenerire i sassi. Io provavo un segreto piacere nel vedermi così rimpianto. Mi misero uno specchio davanti alla bocca e io feci sforzi inauditi per appannarlo con il fiato e dimostrare così che non ero morto, ma non ci riuscii. Dopo quella prova mi coprirono anche la testa con un lenzuolo. Ero disperato perché capivo che mi credevano morto e che mi avrebbero sepolto vivo. Se ne andarono tutti e non rimase che un prete a borbottare preghiere finendo poi per addormentarsi. Venne il becchino a prendere le misure per lavare il lenzuolo funebre. Mi sforzai ancora di muovermi, ma inutilmente incatenato come ero da un potere invincibile. Mi dovetti rassegnare, rimasi a lungo in preda alle più dolorose riflessioni. Il becchino tornò con i miei ultimi abiti, gli ultimi di ogni uomo, la bara e il lenzuolo funebre. Non mi restava altro da fare che addobbarmene. Mi avvoltolò nel drappo e si mise a cucirmi senza tanti riguardi come chi ha fretta di finire. L'ago mi penetrava nella pelle e mi faceva migliaia di punture. Era una situazione insopportabile. Quando ebbe finito mi prese per la testa mentre uno dei suoi compagni mi prendeva per i piedi e insieme mi deposero nella cassa. Ma la cassa risultò un po' corta e così furono costretti a darmi dei gran colpi sulle ginocchia per poter chiudere il coperchio. Alla fine ci riuscirono e piantarono il primo chiodo. Un rumore terribile. Il martello rimbalzava sulle assi e io ne sentivo il contraccolpo. Finché durò l'operazione non persi del tutto la speranza ma all'ultimo chiodo mi sentì mancare. Il cuore mi si strinse perché capì che tra me e il mondo non c'era più niente in comune. Ero inchiodato per sempre al nulla. Solo allora compresi tutto l'orrore della mia situazione. Mi portarono via e dal sordo rotolio delle ruote mi resi conto che ero nel carro funebre. Benché non potessi assolutamente far capire che ero vivo, ero infatti rimasto padrone di tutti i miei sensi. Il carro si fermò e il feretro venne tirato fuori. Ero in una chiesa dove sentivo perfettamente il canto nasale dei preti mentre vedevo brillare il giallo bagliore dei ceri attraverso le fessure della bara. Finita la messa il corteo si avviò verso il cimitero. Quando mi calarono nella fossa radunai tutte le mie forze e probabilmente riuscii a cacciare un grido, ma il rumore della terra che pioveva sul feretro lo coprì completamente. Mi ritrovavo in una oscurità palpabile e compatta, più nera di quella della notte. A onor del vero non soffrivo, almeno nel corpo, quanto alle sofferenze morali ci vorrebbe un libro intero per descriverle. La prima idea che mi si presentò alla mente fu che sarei morto di fame o che sarei stato mangiato dai vermi senza poterci far niente. Poi pensai agli avvenimenti del giorno prima, a Giacinta, al mio quadro, che avrebbe avuto tanto successo al salon. Al mio dramma, che stava per essere rappresentato a una festa che avevo progettato con gli amici, a un abito che il sarto doveva consegnarmi quel giorno e a che altro. Mille cose di cui non mi sarei dovuto preoccupare. Poi, tornando a Giacinta, riflettei come si era comportata, rievocai ciascuno dei suoi gesti, ciascuna delle sue parole, ed ebbi l'impressione che nelle sue lacrime ci fosse stato qualcosa di eccessivo e di affettato che non avrebbe dovuto trarmi in inganno. Ciò mi fece ricordare svariate cose che avevo completamente dimenticato, diversi particolari ai quali non avevo fatto caso, considerati in una nuova luce, mi parvero molto importanti. Dimostrazioni che avrei giudicato sincere mi parvero sospette. Mi tornò in mente che un giovanotto, una specie di damerino con gli speroni, in passato le aveva fatto la corte. Una sera, mentre ci dilettavamo insieme, Giacinta mi aveva chiamato con il suo nome, invece che con il mio, segno indiscutibile che stava pensando a lui. Sapevo d'altronde che a più riprese ne aveva parlato bene in società, come di qualcuno, che non le sarebbe dispiaciuto. Diventò un'idea fissa, la testa mi cominciò a ribollire, stabilì raffronti, supposizioni, interpretazioni che ovviamente non furono favorevoli a Giacinta. Nel cuore mi si insinuò un sentimento sconosciuto che mi insegnò che cosa volesse dire soffrire. Diventai tremendamente geloso e fui certo che a farmi seppellire vivo era stata Giacinta, d'intesa con il suo amante, per sbarazzarsi di me. Pensai che proprio in quel momento stavano ridendo a crepapelle del successo del loro stratagemma e che Giacinta stava concedendo ai baci dell'altro quella bocca che tante volte mi aveva giurato di non aver offerto ad altre labbra che le mie. A quell'idea fui colto da un tale furore che ritrovai la capacità di muovermi e trassalì violentemente, che di colpo rupi le cuciture del mio lenzuolo funebre. Quando mi fui liberato a braccia e gambe, i detti dei gran colpi con i gomiti e le ginocchia al coperchio della bara per farlo saltare e andare a uccidere la mia infedele tra le braccia del suo vile e miserabile spasimante. Suprema ironia. Io, sepolto, volevo dare la morte. L'enorme peso della terra che gravava sulle assi rese inutili i miei sforzi. Esausto, ricardi nel primitivo torpore. Le articolazioni mi si indurirono e tornai ad essere cadavere. La mia agitazione mentale si calmò e giudicai più ragionevolmente le cose. Il ricordo di tutto quello che la giovane donna aveva fatto per me, la sua dedizione e le sue cure, mai venute meno, fecero presto svanire. Quei ridicoli sospetti, esauriti tutti i soggetti di meditazione, non sapendo come ammazzare il tempo, mi misi a comporre versi che nella mia triste situazione non potevano essere molto allegri. In confronto ai miei, quelli del notturno Jung e del sepolcrale Hervey, sono solo buffonate. Vi descrivevo le sensazioni di un uomo che conserva sotto terra tutte le passioni di prima e intitolai quella lugubre fantasticheria La vita nella morte. Un bel titolo, in fede mia, e mi disperavo perché non potevo recitare i miei versi a nessuno. Aveva appena terminato l'ultima strofa che sentì zappare con una gran lena sopra la mia testa. Un raggio di speranza illuminò le mie tenebre. I colpi si facevano sempre più vicini, ma la mia gioia non durò a lungo. I colpi si erano fatti, infatti interrotti. No, non ci sono parole per dire l'orrenda angoscia che provai in quel momento. In confronto alla morte reale non è niente. Finalmente il rumore si fece di nuovo sentire dopo essersi riposati. I becchini avevano ripreso il lavoro. Sentendo avvicinarsi la liberazione ero al settimo cielo. Il coperchio della barra saltò e l'aria fredda della notte mi fece un gran bene perché cominciava a soffocare. La mia immobilità però continuava e benché vivo avevo tutta l'apparenza di un morto. Due uomini mi afferrarono e vedendo che le cuciture del lenzuolo erano rotte scambiarono sghignazzando qualche battuta volgare. Poi mi caricarono sulle spalle e mi portarono via. Cammin facendo, canticchiando sottovoce, ritorna agli osceni. La qualcosa mi fece pensare alla scena dei becchini nell'amleto e in cuor mio mi dissi che Shakespeare era davvero un gran duomo. Dopo avermi fatto passare per molte stradette fuori mano e entrare in una casa che era poi la casa del mio medico, era stato lui a farmi disseppellire per vedere di che cosa fossi morto. Mi deposero su un tavolo di marmo. Il dottore entrò con una borsa di strumenti che dispose compiaciuto su un cassettone. Alla vista di quegli scalpelli, di quei bisturi, di quelle lancette, di quelle seghe d'acciaio lucenti e levigate, provai un tremendo spavento perché capì che mi avrebbero sezionato. La mia anima, che fino a quel momento non aveva abbandonato il corpo, non esitò più a lasciarmi. Al primo colpo di scalpello si era completamente liberata dei suoi legami. Preferiva subire tutti i fastidi di un'intelligenza privata dei suoi mezzi di manifestazione fisica che condividere con il mio corpo quelle terribili torture. Del resto non c'era più speranza di conservarlo, dato che stava per essere fatta a pezzi, e non sarebbe più servito a un granché, anche se quel tagliuzzamento non l'avesse ucciso definitivamente. Non volendo assistere allo squartamento del suo cadavere e del suo corpo involucro, la mia anima si affrettò a uscire. Attraversò rapidamente una serie di stanze e si ritrovò sulle scale. Per abitudine scesi i gradini a uno a uno, ma ero costretto a trattenermi, perché mi sentivo meravigliosamente leggero. Per quanto mi abbarbicassi al suolo una forza invincibile, mi attirava in alto. Era come se fossi stato appesa a un pallone pieno di gas. La terra si sottraeva ai miei piedi, e non riuscivo a toccarla che con la punta degli alluci, e intendo dire proprio alluci, perché pur essendo solo puro spirito, avevo conservato la sensazione delle membra che non avevo più, pressa poco, come chi ha male a un braccio o a una gamba, amputati.